buonasera ragazzi buonasera ragazzi allora oggi questa sera è la vigilia del natale ortodosso giusto ti spezzo in due bene allora ho detto beh vediamo prendiamo ti spezzo in due nel viso che vuole fare il brindisi con con questo con il rum perché purtroppo ne è rimasto un goccino perché l'abbiamo bevuto ok stiamo pranzando con il rum non col vino perché purtroppo non potremmo perché fiesta è un certo a dosi buviamo oggi 40 gradi 40 gradi normalmente si usa il come si chiama la vodka però ti spezzo in due detto oggi mangiamo con l'altra volta con cosa che abbiamo fatto non li vai che voglio dire o pari auguri a tutti gli amici russi e ragazzi a tutti è già ubriaca non ascoltate quindi auguri 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 e anche di nuovo anche gli amici italiani che seguono il canale youtube e che adesso vedono bene ti spezzo in due hanno conosciuto quanto è brutta vedete e quindi no non sono più bello io di te pensi di sì ecco pensa che sono più bello quindi ragazzi si sono buono e quindi ragazzi niente si chiude il canale un abbraccio vi voglio bene bene seguite il canale commentate tu non mi aiuti perché non sai quello che stiamo facendo seguite su telegram l'indirizzo un italiano soci c'è il gruppo ok telegram comunque lo vedrete sui commenti sotto in descrizione sui commenti aspetta perché ti spiace in due fame adesso e sotto sotto mi dice dai mon carri ho fame benissimo e niente iscrivetevi al canale e grazie di tutto buon natale a tutti a me e agrono bene anche io alle signorine io e tu agli amici ok paka 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 diciamo allo allo